Comincia il girone di ritorno nel campionato di promozione e per l'Ovidiana Sulmona domani ci sarà la trasferta contro il Villa 2015. Per i biancorossi c'è subito da sfatare il tabù trasferta contro la squadra di Francavilla al mare. Tra le due formazioni ci sono tre precedenti con il Villa 2015 che sul proprio campo è riuscito sempre ad imporsi per 3-1 nella stagione 2016-2017, per 3-0 in quella 2017-2018 e l'anno scorso per 4-1. Gli Adriatici inoltre sono una squadra da temere perché in casa hanno ottenuto tre vittorie e cinque pareggi senza mai perdere. Le statistiche però sicuramente non spaventeranno i sulmonesi in considerazione dell'ottimo rendimento che stanno avendo i ragazzi di Carvilli che, reduci da cinque risultati utili consecutivi, sono lanciati verso l'obiettivo del salto di categoria anche attraverso i play-off se dovesse rimanere irraggiungibile la prima posizione. Il match si presenta interessante proprio per il discorso play-off con gli Ovidiani in secondi in classifica e gli Adriatici dietro di quattro lunghezze in quinta posizione. All'andata finì 1-1 con il vantaggio nella ripresa del Villa 2015 con Iezzi e il pari dell'allora squadra di Di Felice con Pacella. Adesso i Peligni sono con una marcia in più anche grazie al regalo di Natale fatto dalla società ai tifosi con l'ingaggio del forte attaccante Fabio Lalli. Il tecnico Pietro Cardilli non avrà a disposizione Luca Safoncavedo che dovrà scontare un turno di squalifica. Per la sfida all'antistadio Valleanzuca è stata designata una terna della sezione di vasto con l'arbitro Giorgio D'Agniillo coadiuvato dagli assistenti Alberto e Domenico Colonna. Il Raiano riceverà al Cipriani lo Scafa Passo Cordone, la squadra di Casanova in crisi nera in quanto non vince dallo scorso 2 novembre ed è reduce da ben sette sconfitte consecutive. L'ultimo successo ci fu alla decima giornata contro il Bucchianico per 2-1. I Raianesi sono precipitati al penultimo posto e domani non sarà facile affrontare lo Scafa Passo Cordone, terzo in classifica a meno 2 dall'Ovidiana Sulmona. All'andata finì 2-1 per la squadra del tecnico Roberto De Melis che domani dovrà fare a meno dello squalificato Traoré. Arbitrerà Francesco Battistini di Lanciano, assistenti Steven Terrenzi e Paolo Biancucci di Pescara. Grazie.